Luca Ronca per la sua relazione. Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia città. Mi presento, sono Luca Ronca, sono appunto di Verona. Ho 52 anni, sono sposato e ho quattro figli. Siccome ve lo domandano spesso, tolgo il dubbio con la stessa moglie, sono stato fortunato. Sono entrato quasi subito in consiglio provinciale dopo essermi iscritto a FIAIP e assumendo la delega alla formazione ci sono rimasto interrottamente assumendo poi il ruolo di segretario provinciale e per il secondo mandato quello di presidente provinciale che si sta appunto concludendo con questo congresso. Da maggio 2015 sono stato anche eletto segretario regionale della Regione Veneto. Quando la mia Regione ha deciso di aderire al progetto di congresso unitario, ho dato volentieri la mia disponibilità a candidarmi alla carica di vicepresidente nazionale. Ho condiviso pienamente l'obiettivo di unire e coinvolgere il territorio, dirigenti e semplici associati, nell'elaborazione di un programma che, mettendo al centro la nostra professione, individuasse proposte e soluzioni per far crescere la nostra categoria e la nostra associazione. E' un momento di cambiamento forte per la nostra federazione. Si chiude un ciclo che ha visto Paolo Righi per 12 anni al vertice della nostra federazione, prima come vicepresidente vicario per 4 anni e poi per 8 anni, come sappiamo, da presidente. Io ho sentito molto intensa la responsabilità di mettere a disposizione della nostra associazione l'esperienza che ho maturato in tanti anni di lavoro come agente immobiliare e come dirigente a livello locale. Essenzialmente per poter realizzare due obiettivi. Il primo è quello di far crescere la nostra federazione quale rappresentante degli agenti immobiliari, quindi farla crescere in termini di numero di associati e, sempre di più, anche in termini di rappresentanza della nostra categoria nei confronti delle istituzioni, dei media, di altre associazioni. Poi elevare la professionalità della nostra categoria fino ad arrivare a farne percepire nella società la sua assoluta utilità, anzi vorrei dire necessità. Dobbiamo arrivare a far sì che la maggior parte delle persone che prende la decisione di vendere, comprare oppure affittare un immobile, pensi che rivolgersi ad un agente immobiliare sia la cosa più sensata e conveniente che possa fare. Vorrei poi mettere l'accento su un aspetto del programma che prende in considerazione un settore che ritengo strategico e che per la sua specificità già assegna agli agenti immobiliari un ruolo indispensabile. Mi riferisco al settore turistico. I proprietari che vogliono locare i loro appartamenti ad uso turistico o vacanza, che dir si voglia, trovano oggi nell'agente immobiliare una figura professionale insostituibile che garantisce loro un servizio di qualità e che soprattutto gli consente di trarre la massima reddittività dal loro immobile. Negli ultimi anni questo tipo di locazioni ha avuto una crescita notevolissima e non ha riguardato solo le località balneari o di montagna ma anche l'entroterra perché le nostre città sono tutte bellissime ed attirano sempre più turisti da tutto il mondo. Ricordo quanto ci ha detto l'assessore del turismo di Verona proprio giovedì. Ecco, come federazione dobbiamo mettere a disposizione degli associati strumenti che consentano e agevolino la collaborazione tra i colleghi che lavorano in località turistiche o città d'arte e gli altri che operano nel resto d'Italia. Poi strumenti che consentano la promozione di questi immobili attraverso un canale specifico in Italia e all'estero e ancora strumenti di formazione e supporto tecnico, legale, operativo per chi si vuole avvicinare a questo settore e ha bisogno di acquisire delle competenze e credo serva anche un apposito ufficio studi per questo settore appunto. Concludendo, sono convinto che se tutti insieme, ciascuno per il proprio ruolo, daremo attuazione alle azioni e attività previste nel programma congressuale proposto dalla squadra che si presenta unita con a capo quale candidato alla presidenza Gian Battista Baccarini, gli obiettivi che ci siamo posti siano veramente raggiungibili e per questo chiedo il vostro consenso. Grazie.